Eccovi qua ragazzi il camaleonte pantera dai colori accesi. E' un esemplare davvero molto molto bello come camaleonte. Utilizza i suoi occhi per poter raggiudicare la distanza da lui e dalla creda. E quando un insetto entra nel snorange d'azione, signor lentezza dimostra di avere una velocità sorprendente. E' dente. Grandi come uno spillo al centro dell'orbita utilizzano un grande e preciso momento per localizzare la preda. Dopodiché scatta la lingua. Circa 20 metri al secondo e quanto impiega. Questa caratteristica della lingua è un'ottima cosa dell'ingegnosità animale. La lingua è molto fissata sulla punta di un osso che le fa da supporto. Una potente molla formata da collagini e muscoli e acceleratori crea una catapunta biologica che spinge la punta della lingua come un arco che scaglia una freccia. E' molto bello questo camaleonte. Non sono mai riuscito a trovarlo. Ma alla fine ci sono riuscito. E' stato un bello ninja. E' riuscito a ingannarmi per ben quattro volte.